minuti di apprezzione poco dopo la pausa pranzo oggi a isola vicentina dove è scattato l'allarme con una richiesta di soccorso al 118 dopo l'investimento di una ciclista venuto alle 14 e 35 su una via centrale della cittadina a urtare la bici un furgone commerciale il cui conducente non si sarebbe avveduto della donna che pedalava a bordo strada toccandole facendola perdere l'equilibrio la ferita avrebbe riportato una serie di contusioni al corpo ma non trappela null'altro sulle condizioni di salute se non che il codice di rientro in pronto soccorso era di media gravità motivo per cui non dovrebbe correre al pericolo di vita dopo il trasporto in ambulanza la donna vicentina residente a disola è stata affidata alle cure dei dottori specializzati in medicina d'urgenza per gli accertamenti il liso l'uomo al volante del mezzo subito sceso dall'abitacolo per prestare soccorso all'investita sul posto una pattuglia della polizia locale dell'unione dei comuni grazie grazie